Ma io pensavo per le, diciamo, tre, quattro, cioè non sul tardi perché comunque fa ancora be' caldo. Esibizione per un giovedì sera. Yo, è venuto a tremarmi Kevin in officina. Oggi ho in consegna un pacco speciale, questa è la oleodinamica dell'Avo. Oggi ho in consegna un pacco un po' speciale ragazzi, è tutto per voi. Benvenuti, benvenuti alla nuova session. Oggi ho in consegna un pacco un po' speciale per voi. Benvenuti alla nuova session. Minchia, oggi è morto uomo. Figa, sembra che ti è morto il cazzo, cazzo. Oh zio, ma quella madonna. Onesto. No, vai che pieno di merda. Vai, sono tutti i vermi lì. Ma belli, li porti dal mio giro. Guarda questi. Guarda questo. Eyo, buongiorno. Benvenuti alla nuova session. Sempre sponsorizzata dal nostro sponsor Red Bull Italia. Che ringraziamo. Oggi siamo a Romolo, nel parchetto qua dietro del libraccio. Vedremo cosa inventarci. Stiamo aspettando Pilo, nel frattempo. Nuovi adesivi Milano Bike Trail, sponsorizzati da Kevin Lentini. Iscrivetevi al suo nulla, perché non ha niente. Però quello lì è Kevin Lentini. Chiacciolina Kevin Lentini. Ciao, scemo. Oh, inizia a fare il freddo. Oh zio, bello sto brufolo. Oggi ho in consegna un pacco un po' speciale per voi. Benvenuti alla nuova session. Wow, bello che è uno. Bello, bello. E allora, guardami, guardami come si ce n'è. Wow, the transition. Spessore 22,5 mm. Pilo Andrea, all'azione. Oh, sexy. E allora, guardami, guardami. Spessore 22,5 mm. change location hello No C'è, promette bene E' un filo rando Siamo dovuti un attimo rifugiare in questo box che abbiamo trovato perchè si è messo a diluviare Cioè comunque non vorrei dire, qua stia piovendo con il sole Guarda, yo! Attenzione, campionato nazionale di Bike Trial, la porta 5 Perchè le altre 4, vabbè, le altre 4 sono mainstream Oh zio scotch, zio lo scotch, dov'è lo scotch? Oh la madonna, così larga gliela fai Andrea Pilo non c'è No zio, uno Zio l'hai calpestata, non va bene Zio, guarda, è caduta Oddio, piove, 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 piove Sì? 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 Sì?